Allora, sei andato a giocare a padel persino ad Osimo, con i tuoi fratelli, ci sta, ok, va bene. Adesso torniamo a casa, e ride anche Camilla, torniamo a casa e dobbiamo vedere anche il tennis. Non è vero, ho detto metti i berrettini tu, ah lo conosco i berrettini. Quello che fa il tennis, ho detto. Quello figo che fa il tennis, ma Camilla... Vabbè, io non l'avevo detto, avevo detto quello figo e tu hai dovuto aggiungere quello figo che fa... Sì, l'ho detto, ammetto, ammetto, non è che solo tu puoi osservare la bellezza delle donne. Adesso ci sarebbe anche l'Inter, però dai, diciamo... Prima berrettini, prima un secondo berrettini e poi anche l'Inter, vero? E poi la vita di mamma di Rosalinda Cannavo, è sabato mattina, sei mamma, fai solo micro fisolini e sei sveglia dalle 6, mamma mia. Però hanno l'albero migliore del mondo, l'albero di Natale migliore del mondo, fallo semplice quest'anno, eh. Super alberone, dove c'è anche chinu sotto l'albero come regalo. Va bene, chiediamo così con le foto del giorno, ci vediamo al prossimo video. Ciao!